ci sono alcune parole chiave in questo laboratorio di ricerca del cnr istituto nazionale di ottica che mi piace sottolineare della collaborazione con l'università degli studi di brescia e con il dipartimento di ingegneria dell'informazione delle università degli studi di brescia e qui grazie alla collaborazione fra questi diversi enti si fa ricerca nel mondo della sensoristica il sensore è una cosa bellissima che consente di amplificare le potenzialità dei nostri sensi e quindi di capire meglio quello che succede attorno a noi sia per scopi fondamentali sia per scopi applicativi